Nel corso dell'ultima puntata di Rai, il direttore dell'osservatorio vesuviano dell'Ingv, Mauro Di Vito, fa il punto sulla crisi bradisismica ai campi flegrei. Ci sono delle differenze oppure no rispetto alla crisi bradisismica di 40 anni fa, rispetto agli ultimi mesi? Allora, ci sono delle differenze essenzialmente in termini di velocità del fenomeno. Quel fenomeno fu molto veloce, l'ordine di grandezza della deformazione del Sole era 10 volte superiore a quella attuale, il numero di eventi decisamente superiore, però c'è un'altra grandissima differenza che io enfatizzerei rispetto alle cose che lei ha citato, che oggi rispetto ad allora abbiamo reti di monitoraggio, controlliamo, lei ha citato le acque, abbiamo una fitta rete di monitoraggio anche delle acque e dei pozzi, che a volte ci danno delle buone indicazioni sull'evoluzione del sistema geotermale dell'area. Nessuna modifica in vista dello scenario, ma monitoraggio costante. La richiesta di snellire le pratiche e accelerare i tempi per le analisi di vulnerabilità sismica degli edifici arriva dai cittadini ed è indirizzata alla protezione civile. Chiediamo solamente se è completata una zona, è possibile già informare gli abitanti di quella zona in modo che, così come prevede la normativa, possano cominciare a fare le domande per gli abitanti delle zone che sono risultate vulnerabili. Ci fa piacere che, secondo qualche dichiarazione che abbiamo ascoltato, che ad oggi non ci sono grossi problemi. Non possiamo dare i dati a macchia di leopardo, ma il piano evidentemente deve essere un piano complessivo che deve poter essere letto in maniera complessiva e quindi adesso, per carità, il rappresentante del comitato cittadino Il piano ha assolutamente ragione nel chiedere accelerazione, però il piano ha dei tempi, se ci dovessero evidentemente essere delle situazioni come quella che è stata evidenziata in trasmissione, è chiaro che può essere assolutamente interessato il comune e quindi possono essere fatti dei sopralluoghi specifici all'interno delle abitazioni in modo tale da fare in modo da risolvere poi situazioni di particolare rischio. Grazie